C'è la parola fine anche se non è fine perché ci sarà anche uno stralcio palestra da portare avanti per questa scuola che comunque viene riconsegnata alla città con una veste veramente bella. Sì, oltre che bella sicura. Questo è stato il primo intervento di messa in sicurezza sismica realizzato dalla provincia dopo la normativa che è cambiata nel 2004 perché aveva bisogno di un intervento massiccio. Abbiamo praticamente messo in sicurezza tutta la struttura compresa i laboratori, rimane la palestra, abbiamo però già le risorse finanziarie, siamo in attesa dell'autorizzazione sismica. La palestra per non bloccare le attività scolastiche ma anche le società sportive la faremo nel periodo estivo per non disturbare. Adesso questa scuola oltre che bella è sicura e con quel che è accaduto nel 2012 sostanzialmente nella bassa modenese, visto che questa è una zona sismica ancora più a rischio, credo che ci debba essere grande attenzione a tutti gli edifici, in particolare edifici pubblici come le scuole dove ci sono centinaia di ragazzi, anzi a Sassuolo i ragazzi e i superiori sono 4.500 e sono il futuro del distretto. Soddisfazione da parte della provincia e abbiamo visto anche soddisfazione da parte della città. Credo proprio di sì, è un giorno di festa perché investire nella scuola vuol dire investire nel futuro, non solo per i giovani. Noi per avere una nuova fase di sviluppo di un distretto che è stato leader nel mondo e sicuramente in Italia abbiamo bisogno di imprese molto competitive. Per avere imprese competitive occorre mano d'opera, tecnici, dirigenti che abbiano un'altra preparazione anche tecnica e occorrono quindi scuole qualificate ma anche contenitori qualificati, collaboratori qualificati. Quindi l'investimento nella scuola è il principale investimento che la società deve fare e anche noi dobbiamo fare in un momento di crisi per uscire da queste difficoltà, altrimenti non se ne esce. Allora Assessore, è un giorno di festa, uno sforzo importante da parte della provincia, Sassuolo e la sua scuola, se posso usare il termine, la sua scuola, il Baggi dove lei è stato oltre 40 anni, torna alla normalità. Sì, no certo, diciamo che è stata la mia vita perché ho trascorso 30 anni qui l'insegnamento e quindi l'ho conosciuto bene perché ho avuto anche diversi impegni interni, quindi è stata la mia casa operativa, diciamo così. Sì, quindi questo è un giorno in cui sono molto libero, ho rientro praticamente a casa e la provincia effettivamente ha fatto un ottimo lavoro che è durato degli anni e che ha avuto un impegno finanziario moltovolissimo, quindi applaudiamo proprio. E possiamo dire, siccome questo è il cinquantesimo dell'autonomia del Baggi che è stata la prima scuola superiore di Sassuolo, è un merito di una scuola che è stata la base anche del successo economico di Sassuolo, del boom economico di Sassuolo, quindi tanti studenti del Baggi che costituiscono l'architettura, le strutture delle principali aziende del nostro territorio, sia dalla parte modernese che dalla parte reggiana, quindi direi che è un riconoscimento alla storia proprio. Allora professoressa, intanto sicuramente una soddisfazione, lei è colei che festeggia i 50 anni di autonomia della scuola, ma anche una scuola, diciamolo, soprattutto sicura. Sì, noi finalmente festeggiamo l'inaugurazione della fine dei lavori di ristrutturazione antisismica dell'edificio, contiamo di avere ora una scuola più sicura, abbiamo bisogno di scuole che siano sicure, ma anche belle ed accoglienti. Questi lavori terminano oggi per la parte per l'edificio scolastico e proseguiranno, penso nell'estate, ce lo dirà poi l'assessore Pagani, per la ristrutturazione delle palestre. I lavori sono cominciati già quattro anni fa, quindi prima di me il preside Cavalieri che mi ha preceduto ha seguito l'inizio dei lavori e il loro svolgimento. Adesso la città si attende anche un rilancio della scuola e voi state organizzando una task force di insegnanti che organizzino progetti a livello internazionale maggiormente indirizzati ai vostri cavalli di battaglia, cioè la ragioneria in particolare ma anche i geometri. Sì, siamo impegnati nell'organizzazione didattica su alcuni pilastri fondamentali. Per quello che riguarda l'indirizzo economico, il settore economico è il potenziamento linguistico, che perseguiamo attraverso il potenziamento e la presenza di insegnanti madrelingue pagati dall'istituto direttamente e anche un progetto come ENIUS finanziato dall'Unione Europea di scambi internazionali con scuole dei paesi dell'Unione Europea, la Slovacchia, la Germania e la Polonia. Per quanto riguarda il settore dei geometri abbiamo invece due progetti importanti, uno è quello della formazione per la qualifica all'attestato addetto ai servizi di prevenzione e protezione, ASPP, e poi un progetto con Confindustria Ceramica, in collaborazione con Confindustria Ceramica, sulla formazione di progettisti specializzati nella posa delle piastrelle. Allora Francesca, intanto un viso sorridente, cento pieno e quindi voglio dire soddisfazione tua e anche da parte dei genitori sicuramente. Sì, sì, sicuramente, loro sono stati molto soddisfatti, adesso ho anche deciso di proseguire gli studi, ero un po' indecisa, poi diciamo che questo voto mi ha dato lo stimolo e continuo e provo ingegneria gestionale a Reggio e quindi speriamo di farcelo, insomma. Sacrifici anche personali perché abitare a Monchio e venire giù tutti i giorni? Sì, per cinque anni è stato piuttosto complicato, diciamo, fare su giù tutti i giorni, pesanti il viaggio, un'ora di viaggio, però poi alla fine se le cose vanno così c'è anche la soddisfazione, quindi questo, diciamo, ripaga tutti gli sforzi. Quindi la tua idea è di fare l'ingegnere? Eh, ci proviamo, ci proviamo perché è un po' complicato rispetto alla scuola che ho fatto io, soprattutto il primo anno un po' incagliato, però ci si prova, insomma, bisogna provarci. Allora Augusto, anche per te una soddisfazione importante, un coronamento di corso di studi che ti ha portato addirittura alla lode? Sì, siamo riusciti appunto a incoronare questo percorso che è durato cinque anni, fatto di impegni, di sacrifici, però siamo giunti appunto al risultato che speravo. Tu hai parlato al plurale, vuol dire che i sacrifici sono un po' di tutti, da parte tua alzarti al mattino presto, venire giù, ma anche da parte dei genitori che ti hanno supportato. Ah, beh, quello sicuramente, cioè i genitori sono la base fondamentale, nel senso ci deve essere la famiglia che appunto ti sostiene e poi dopo ci deve essere l'impegno appunto tuo a proseguire e a fare degli sforzi anche dei genitori, un risultato finale. Ultima cosa, cosa hai pensato di fare nella vita dopo, da adesso in avanti? Adesso stiamo affrontando un altro percorso che è quello dell'università e sperando poi di riuscire a entrare nella guardia di finanze che è il mio grande sogno. Allora, Francesca, anche per te il massimo dei voti, volto sorridente e soddisfazione da parte tua e anche per quello che hai dato ai tuoi genitori? Sì, certo, sono molto contenta del voto che ho preso e anche la soddisfazione che ho dato ai miei genitori soprattutto e anche agli insegnanti e di quello che ho fatto, cioè sono contenta, soddisfatta, sì. I sacrifici sono arrivati anche perché non sei uscita la sera, perché hai dovuto rinunciare alle amicizie o no? No, questo no, però diciamo un pochettino, soprattutto alla sera, non è che uscivo molto, al pomeriggio anziché uscire con gli amici stavo a studiare, poi concentravo tutto magari al sabato più che durante la settimana. E questo alla fine un po' pesa, però un po' ripaga? Sì, ripaga senz'altro. Io non rimpiango di aver fatto questo, anzi sono contentissima. Che cosa fai adesso? Studio Ingegneria Civile a Modena.